In questa occasione la scuola entra a piedi uniti nel territorio, si fa portavoce di quelle che sono le istanze del territorio stesso, crea la giusta sinergia con gli abitanti del centro storico di questo bellissimo centro storico di Crotone e anche in queste occasioni, queste feste natalizie quando magari c'è distrazione, c'è l'attenzione verso quello che si dovrà andare a fare da qui a poco i ragazzi del Fertini e del Santoni sono sempre in prima linea. Amici della Mensa, amici della Mensa perché ci ha l'amministrazione comunale, ci ha il preside di insegnanti e voi ragazzi avete espresso e esprimente una vicinanza straordinaria, questo luogo bello che voi rendete ancora più bello con la vostra creatività e che rendete bello con la vostra età in fiore se c'è qualche cosa di bello ed è in fiore la vostra età. Questa piazza che ieri è stata vandalizzata ma la risposta vostra è stata più forte, molto molto più forte. Grazie a tutti, grazie a voi ragazzi soprattutto, grazie della vostra bellezza, mantenetevi così e siate di esempio per quelli che come noi hanno i capelli bianchi e certe volte molto spesso sono distratti invece voi siete presidio di bellezza per questa città. Grazie, buon Natale a tutti!